buongiorno oggi siamo su di nuovo sul gioco dei pokemon si chiama elf island e volevo insieme a voi andare a fare gli stage hard non credo di farcela comunque ci provo questa è la mia nuova squadra ho trovato mew ho evoluto charizard o geridos insomma raiko ho trovato molte cose però non è fortissima mi sa quanto comunque non ci proviamo allora giochiamo tutte le abilità forti ok quello ogni tanto da doppio hit ok raikuli qua ft super efficace freezing ice horn usiamo freezing così ci attiviamo la ulti ok questo è lo stage finale a geridos attacca quello dietro quindi direi di attaccare l'ape che non so il nome è lui cosa facciamo però perché lui ha l'abilità già finale allora utilizziamo la ulti qui meno male che ne tira due l'ha ucciso raiko usiamo l'abilità finale che è super efficace non ho tolto nulla allora mio ha una particolarità potrebbe silenziare la ulti vediamo se lo fa mi sa che non gliel'ho silenziata sapete questo potrebbe frizzare vediamo se frizza qualcuno ne ha frizzati tre a parte quello che mi serviva da frizzare lui mi tira adesso tra un po adesso mi tira la ulti mi fa un danno apocalittico ma no ci sono già usciti dal congelamento ma perché attacca due volte ma non ho ben capito tiramene un'altra niente super efficace fai danno per favore non fa niente allora l'abilità finale non ce l'ha nessuno di loro adesso ice horn qui e raiko mi sa che lui non me lo doveva uccidere mi è rimasto raiko bisogna uccidere assolutamente lei che è la finale vai flame tower burn meteorite uccidila ti prego ti prego uccidila ok e ora c'è un problema alzo un pochino c'è un problema enorme a lui è lo scudo devo attaccare per forza lui anche se è resistente io spero lo frizzi se no ho perso mentre ha frizzato oh aspetta non alla finale allora bisogna uccidere lui lui adesso mi attaccherà normale madonna metà vita ma mi sa che abbiamo perso provo a uccidere lui sperando che non si tolga dal freezing ecco si è tolto mi è morto charizard o la ulti aspetta che è rimasto frizzato lui allora frizza anche lui per favore ok però si è tolto però non alla finale fermi tutti che se riesco a uccidere lui si è sfrizzato dimmi non attacca ok non attacca devo usare per forza confusione qui ti prego frizzala allora se mi tira la finale ho perso non ce l'ha ancora ma ce l'ha al prossimo turno mi sa che abbiamo perso a meno che non lo frizza niente però non ce l'ha ancora ce l'ho io silenziala mi sa che non l'ha silenziata mi sa che abbiamo perso peccato era molto close c'ero quasi peccato veramente peccato ritentare con un'altra formazione magari vediamo se riusciamo lui sicuramente va dietro me lo devo tenere miu miu va in start in teoria quando viene attaccato potrei metterlo al posto di keddos proviamo proviamo questa formazione vediamo vediamo se va un po meglio nel caso amen allora hyper beam vabbè qui ovviamente dovevamo utilizzare quello che mi avevano uccisi tutti tiriamo due hit a te no ok dovrei comunque farli fuori tutti eh non so se charisas la fa ovviamente no mi prendo pure dei danni questi erano da tenere vabbè allora ripartiamo così qua geridos tu devi tirarmene due devi tirarmene due per forza ok me ne hai tirate due l'hai uccisa thunderclaw in realtà non penso di farcela perchè prima ne ho frizzati tre è stata silenziata è stata silenziata però è stata silenziata vediamo un attimo non può farmi la ulti mi attaccherà normale questo è oro no dai che c'ha lo scudo ok paralizzato molto bene critical hit devo andare a uccidere lei per forza mi sparerà una ulti uccidiamo lei forse la facciamo sto giro eh confusion qui c'è un pro frizzala me la rischio non l'ha frizzata oh peta non mi ha tirato la ulti forse rimane bloccata per due turni eh dobbiamo uccidere lei questa formazione sicuramente risulta più efficace anche perchè dietro non riescono ad attaccarmi eh ah mi sa che mi muore Mew è andato in stealth ma mi sa che è morto ah peccato veramente eh allora crunch qui è di nuovo la ulti incredibile ti prego buttala giù lui fa dei danni apocalittici eh però non è bastato eh cavolo dimmi che mi regge qualcuno buttala giù ti prego ok manca solo lui nooo peccato mi sa che non ce la faccio di pochissimo guarda la raga no perchè mi ha fatto attaccare oddio che è stato smattaccato il mio perchè mi ha creato madonna santa no ragazzi ci voglio provare un'ultima volta è fattibile così eh c'è da dire che le ho anche silenziato la ulti comunque mmm va bene dai riproviamo allora se ho un po' di fortuna ce la si può fare eh ok ok allora lui va sempre qui e fin qua ci siamo lui deve farmi due hit e me ne ha fatta una ok devo usarla qui per forza lui deve frizzare frizzare 3 ok planet tower per forza qui e adesso lui mi tira la ulti allora non dovrebbe uccidere Mew 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 è andato in stealth Mew è andato in stealth freezing qua ok non ho ben capito hanno confusione cosa hanno niente boh mi attaccano quindi boh eh io devo per forza rischiare me la devo uccidere lei che non so neanche se ce la faccio no non ce la faccio nemmeno allora abbiamo perso però lui non ha tirato la ulti ah non può tirarla ho visto ora che lui è ah usiamolo qui fammi due hit ok frizz non può tirarmi la ulti eh frizza qualcuno ok non può tirarmi la ulti oh ottimo ho attaccato addirittura il suo e ora però ce l'ha la ulti eh basta ok frizzato fermi tutti su di lui morta ce l'abbiamo fatta ragazzi mamma mia che fatica e anche frizzato buono buono eh ci è andata molto bene eh perché è durata due turni ok ragazzi io concludo qua il video perché ce l'abbiamo fatta eh mamma mia molto più dura del previsto quindi vi ringrazio per la visione ci vediamo alla prossima prendiamo il tesorino mi raccomando iscrivetevi lasciate like e ci vediamo al prossimo video ciao ciao